Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento di Topic e devo dirvi subito in apertura particolarmente sentito perché stiamo parlando di qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, parliamo di povertà diffusa, di necessità di realmente aiutare il prossimo, attenzione non vogliamo sostituirsi alla Chiesa, vogliamo però dare delle indicazioni fondamentali per coloro che sono in difficoltà perché guardate in Sicilia a Catania, presso il MAS di Catania c'è un importante centro di raccolta organizzato praticamente dal Banco Alimentare, abbiamo con noi qui il Presidente della Sicilia Orientale, possiamo definirla così, il Dottor Pietro Maugeri. Buonasera, grazie mille per l'invito, grazie a tutti. Io dicevo ci sta particolarmente a cuore perché noi quotidianamente facciamo cronache, parliamo di problemi legati alla povertà che c'è sempre più dilagante in ogni settore, professionisti che perdono l'occupazione, gente che non può nemmeno fare la spesa, ecco voi fate un qualche cosa di eccezionale perché date conforto a tantissima gente su tutto il territorio, ovviamente tutti i centri di raccolta che sono le chiese, la Caritas che è un po' dappertutto, ecco questo è un messaggio notevolmente gratificante ma non è teoria, è pratica. Sì sì, è pratica, ma lo vediamo basta andare a vedere i nostri vicini di casa, andare per le strade, alle povertà che noi conosciamo, magari chi ha il colore un po' diverso dal nostro, quelli che vestono male, quelli che sono proprio in condizioni di indigenza, purtroppo in questi ultimi tre anni non ci siamo fatti mancare nulla, prima la pandemia, poi le guerre sia in Ucraina sia in Israele, sia la crisi energetica, vi ricordate l'anno scorso le bollette elettriche impazzite, la crisi alimentare, insomma non ce ne siamo fatti mancare niente negli ultimi anni, quindi alle vecchie povertà se ne sono aggiunte di nuove che sono udite udite figure che fino a poco tempo fa non erano interessate alla condizione di povertà, in questo momento in Italia dati Istat, persone in condizioni di povertà assoluta, sono più di 5 milioni e 600 mila persone in Italia, quindi quasi il 10% della popolazione italiana in questo momento è in condizioni di povertà assoluta e in questi 5 milioni e 600 mila persone c'è dentro anche figure prima sconosciute, il mondo dei libri professionisti udite udite di certe partite IVA che fanno fatica, il mondo degli artigiani, il mondo dei padri separati o delle madri separati che hanno problemi con l'altro coniuge e hanno problemi legali tra di loro, spesso li vediamo in fila, fare la fila alla Caritas per un pasto, famiglie monoreddito con redditi medio-bassi che hanno molti figli a carico, iniziano a scivolare lentamente in condizioni di povertà, ecco rispetto a tutto questo mondo la strada del banco è la strada della condivisione e quindi il recupero continuo da a tutti la filiera agroalimentare per recuperare cibo e per donarlo a chi in questo momento come dicevo prima fa fatica, in Sicilia in questo momento il banco alimentare aiuta qualcosa come 280 mila siciliani, quindi una città come Messina. Infatti volevo proprio chiedere i numeri, proprio 280 mila persone hanno bisogno dell'aiuto del banco alimentare? In Sicilia, in questo momento il banco alimentare attraverso le nostre strutture caritative, ci sono 720 strutture caritative, Caritas parrocchiali, enti religiosi, enti non religiosi, tante altre realtà che fanno del bene, vengono a ritirare da noi il cibo, noi siamo al MAS di Catania e poi abbiamo anche due magazzini più piccoli, una a Messina e una a Siracusa, ritirano il cibo e lo danno a chi non ne ha. Tutto questo processo che dico è un processo assolutamente certificato, tutto il cibo che entra da noi ha le proprie bolle di accompagnamento, quindi dal punto iniziale della filiera fino all'utente finale, quindi all'assistito, è tutto certificato, il chilo di pasta che entra all'inizio sappiamo poi dove va a fine, questo per noi è importante perché fa parte di un sistema. Ecco, voglio dire, stiamo parlando di numeri e stiamo dando anche delle indicazioni importanti, spesso noi diciamo non bisogna girarsi dall'altra parte, ecco questo è fondamentale, quindi quando c'è qualcuno che vi contatta, non so se voi avete la capacità, la possibilità di contattare, fare campagne di promozione, spesso ne abbiamo viste alcune in passato, ecco però se volete donare, se volete veramente far giungere il vostro contributo a chi ha bisogno, questo tipo di associazionismo, questo tipo di rete, chiamiamola rete, è fondamentale perché così sapete che anche il chilo di pasta, anche il litro di latte, anche altri alimenti giungono a destinazione, c'è sempre una famiglia che è lì che aspetta, che sa che deve andare a ritirare. È una rete bellissima di solidarietà, basta collegarsi per avere maggiori informazioni in bancaalimentare.it, sezione Sicilia, ci sono tutte le informazioni tra l'altro o sulle pagine social Banca Alimentare della Sicilia o di Biu, quello che per me è importante sottolineare appunto è che è una rete di solidarietà, il banco, siamo tutti sulla stessa barca come dire io spesso, siamo noi e le strutture caritative proprio messe insieme per provare a dare conforto dal punto di vista alimentare, però poi l'esperienza che fanno le strutture caritative quando portano il pacco della spesa o quando vengono accolte nelle mense, tu inizi a dialogare con loro sull'aspetto diciamo del cibo, tu porti la spesa, ma poi nasce un'amicizia perché il bisogno, come sappiamo, quello alimentare e quello alimentare, però poi hanno bisogno del lavoro, hanno bisogno di una parola di conforto, hanno bisogno di un aiuto psicologico, insomma nasce un'amicizia, nasce un conforto a partire grazie a quel pacco di pasta recuperato dal Banca Alimentare, quindi è un sistema, non è una cosa eccezionale, siamo persone normalissime che ci muoviamo nel quotidiano e diamo un servizio alla comunità inteso appunto come sistema, come rete. Ecco, la grande distribuzione partecipa e consapevole dell'esigenza di aiutare il prossimo, perché possiamo dire questo in sintesi. Allora, la grande distribuzione, il tema per esempio del recupero degli alimenti, 30 anni fa noi eravamo dei primatori assoluti, ne parlavamo praticamente solo noi o quasi, devo dire che è diventato in questi anni dialogo continuo con tutte le organizzazioni, oggi è diventato un argomento questo recupero degli alimenti quasi di moda, se pensiamo a 20 anni fa, quasi uno si vergognava a chiedere la doggy bag per il cibo che era avanzato nel proprio piatto, uno pensava, è sembro quello in difficoltà che mi chiedo le cose da portare a casa. Oggi per fortuna questo pensare comune è superato, tantissimi si portano a casa il cibo, perché giustamente sarebbe uno spreco non portarselo a casa e anche a livello di grandi aziende, questo sta ormai negli ultimi anni accadendo, per cui tantissime aziende nazionali, siciliane, internazionali sono in accordo col Banco Alimentare, per cui noi quotidianamente andiamo a recuperare nei supermercati la roba prossima alla scadenza, non noi direttamente, ma attraverso le strutture caritative, perché l'aspetto predominante del banco è sia l'aspetto sociale che dicevamo prima, i 280 mila siciliani aiutati, ma anche l'aspetto ambientale, non avrebbe senso il banco che sta al MAS, a Catania, che va a recuperare il supermercato di Caltanissetta, andrà a recuperare sul mercato di Caltanissetta la struttura, la parrocchia vicino al supermercato che è convenzionata. Sul mandato del Banco Alimentare. Sul mandato del Banco Alimentare. Questo è importante, io voglio sottolineare l'aspetto sociale, perché vedete quando si parla di donare e di poter dare l'opportunità alla gente di vivere, io penso che sia la gratificazione maggiore. Voi dovete per un momento fermarvi a riflettere e pensare, ma se non avessi io da mangiare il pane oggi, se non avessi da poter bere, da poter consumare alimenti che mi servono per poter vivere, ma che tipo di reazione potrebbe innescare? Il contributo che voi date è tanto importante che io voglio non sminuire, voglio proprio enfatizzarlo, perché una persona che ha fame, che non può mangiare, può commettere anche atti sconsiderati, può diventare anche un pericolo per la collettività, quindi attenzione, bisogna proprio entrare nel merito, farsi un'idea di che tipo di aiuto puoi dare. Dice benissimo, io dico sempre fare il banco, fare solidarietà, mettersi in rete, come dicevo prima, sono gesti di pacificazione sociale. Oggi assistiamo nei telegiornali, tutte le brutture della guerra, fare qualcosa per chi in questo momento fa fatica, crea occasione di pacificazione sociale, perché queste persone aiutate domani magari non andranno a delinquere, domani entreranno in amicizia con chi li ha aiutati delle strutture caritative. Noi abbiamo tantissimi volontari del banco che sono persone che qualche anno fa avevano problemi, sono stati aiutati, sono stati accolti, hanno condiviso, loro sono i nostri primi volontari, perché hanno fatto esperienza di una cosa positiva, mai magari nessuno li aveva guardati con un occhio positivo alla propria persona e finalmente entrano invece, avendo quello sguardo positivo su di sé, si riscattano. Lo possiamo definire quasi di protezione civile, come servizio, questo è un servizio importante. Quanti sono, quanti iscritti avete in questo momento? Come volontari? Centinaia, nel registro dei volontari, centinaia. Io sono il primo volontario, faccio altro nella vita. Io sono commercialista, faccio pagare un po' di tasse in più a qualche uno che ha il portafoglio più largo. Questo mai. Però nella vita faccio altro, però è importante appunto che ciascuno di noi si sbracci per quello che può, col proprio tempo, con la propria competenza. Io so fare questo, io so fare quest'altro. Abbiamo una campagna di servizio civile, tra l'altro in questo momento che scade a breve, da noi nel nostro sito bancalimentare.it Sicilia, tutte le coordinate per potersi iscrivere. L'esperienza del servizio civile è un'esperienza bellissima, perché da un lato porta e fa quegli elementi di carità e condivisione che dicevo poco anzi, dall'altro è un'esperienza professionale a tutti gli effetti, pagata, tra l'altro. E questa è un'opportunità che è data a tutti. Ci vuole raccontare un episodio che gli ha fatto venire la pelle d'oca, che lo ha entusiasmato, che lo ha gratificato, che ha dato la possibilità di lottare per il diritto della gente di avere gli alimenti? Noi diciamo che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro che ormai sembra quasi bandito e sparito, però voglio dire, parlando di alimenti... Non ci sono cose eccezionali, c'è l'esperienza di tutti i giorni, perché appunto a volte anche i volontari passano come eroide, no, sono persone comunissime, volontari eccetera, ma due esperienze, una, molti mi chiedono ma perché lo fai, chi te lo va a fare, facendo il commercialista già nel tempo, ne hai poco, chi te lo fa, avendo tre, io ho tre figli, tra l'altro anche piccoli, chi te lo va a fare? Sono piccoli, non fanno volontaria, cioè non partecipano. No, ora sono adolescenti e appunto perché lo fai, perché lo fai, lo faccio per i miei figli innanzitutto, perché io penso che ai giovani più che raccontare come dovrebbero essere le cose e non sono, vale l'esempio e allora molti mi chiedono perché lo fai, lo faccio per loro, perché possono vedere dal papà un tentativo di un mondo migliore, ci proviamo, con tutti i miei limiti ovviamente. E l'altro, andare proprio a vedere nelle realtà, nelle parrocchie, piuttosto che nelle strutture caritative, il bene che viene fatto. Abbiamo fatto a settembre una bellissima festa a Librina a Catania, con tante strutture caritative, vedere i volti gioiosi della gente che è aiutata dal banco attraverso le strutture caritative, riempie veramente il cuore di gioia, apre il cuore, apre la mente, dobbiamo rendere conto di tutto quello che c'è intorno a noi, che non sono solo brutture e questo è importante. Allora, l'importante è che se ne parli, io ringrazio tra l'altro Monica Adorno che mi ha aperto questo mondo, la collega Monica che mi ha illustrato quello che è questo pianeta che non deve essere inesplorato, bisogna entrarci nel merito, fare servizio di coscienza pubblica, chiamiamola così, perché si aiuta il prossimo. Ho citato Monica perché volevo dire che l'impatto mediatico funziona? Cioè c'è un'attenzione particolare da parte dei media o c'è un prenderla un pochettino marginalmente? No, devo dire, noi siamo conosciutissimi per la famosa colletta alimentare che c'è a novembre, per cui si fermano nei supermercati i volontari fermano gli avventori per fare un po' della spesa, però devo dire, siccome la gente mangia tutti i giochi una volta l'anno, devo dire che durante l'anno il mondo dei giornalisti, della comunicazione eccetera è molto sensibile, di questo noi ne siamo profondamente grati, abbiamo conosciuto i tanti, noi sapete come li chiamiamo, anche voi stasera li chiamiamo così, i cosiddetti compagni di banco, cioè tutti coloro che parlano di noi, che pongono questi accenti, li chiamiamo compagni di banco, è un'espressione che dice un po' tutto, siamo compagni di questa vita, facciamo la stessa avventura e proviamo a fare qualcosa di buono. Bene, io da compagno di banco apprezzo la presenza del dottore Maugeri per essere con noi, io volevo dare anche delle indicazioni tecniche, nel senso allora, il banco alimentare, la sede di Catania, abbiamo detto presso il Master, il mercato importante per quello che riguarda l'ortofrutta, insomma, è un grande centro, il mercato più importante della Sicilia, quindi lì sono magazzini, c'è la possibilità del centro di raccolta, quindi se volete andare direttamente possono venire direttamente. Oppure prendere le informazioni, bancaalimentare.it, sezione appunto Sicilia Catania, Banca Alimentare della Sicilia ODV sulle pagine social, Instagram, Facebook eccetera, e lì ci sono tantissime informazioni, abbiamo un numero di telefono, le mail, per cui siamo a vostra disposizione. Benissimo, io allora sono costretto per il tempo a congedare il mio compagno di banco, che ho apprezzato tantissimo, mi sembra di essere tornato a scuola, però voglio dire, non facciamo dispetti noi, noi pensiamo di fare le cose che siano positive per tutti coloro che in questo momento soffrono, hanno bisogno di una mano. Attenzione, ripeto, non giratevi dall'altra parte, perché può accadere a chiunque, può accadere a chiunque di essere in difficoltà, quindi quando hai una mano tesa che ti possa dare l'opportunità di continuare a vivere, penso che sia la risposta più importante che si possa dare. Assolutamente, grazie, grazie per l'invito e ci vediamo presto. Grazie dottore, lo ricordiamo, Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare, in Sicilia ce ne sono tanti, ma voi avrete la possibilità di digitare su internet dove siete degli internauti e potete trovare sicuramente i riferimenti. fate veramente qualche cosa per questa gente ed è tanta, veramente tanta, che ha bisogno. Siamo arrivati alla fine di Topic, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Arrivederci.